Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata Giuseppe De Tomas che è consigliere provinciale della UAL. Ecco con lui vogliamo affrontare un tema che è sempre di grande attualità, ovvero quello della presenza del lupo sul nostro territorio, un territorio che lo sappiamo è fortemente antropizzato. Ecco lei si è occupato anche proprio di questo tema, ci dica come. Ma all'inizio, all'insorgenza del problema, all'inizio dell'estate ha fatto un'interrogazione e adesso ha proposto una mozione, una mozione in consiglio che significa aprire un dibattito, un'informativa che non è semplicemente chiedere conto al governo provinciale di cosa fa, ma anche quali sono le prospettive. Il problema è un problema serio perché si affaccia a questo nuovo problema, a questo nuovo animale che non c'era prima e che crea problemi non tanto all'uomo, nel senso che non ci sono delle aggressioni all'uomo, ma agli animali e quindi di conseguenza genera, come dire, del disagio forte anche per chi lavora in montagna, soprattutto chi nel tempo ha fatto sì che di invertire una tendenza, adesso la montagna sta di nuovo, come dire, ospitando quelle attività economiche tradizionali che garantiscono anche la conservazione, la cura del territorio, gli alpeggi e questo naturalmente impatta moltissimo con questa attività e diventa un problema la gestione della convivenza di questa specie animale che è protetta, però con le attività dell'uomo che sono altrettanto, se non più importanti, anzi sicuramente più importanti perché, ripeto, danno la possibilità a un ambiente di essere conservato in questo modo. Nelle zone dove il lupo c'è, in altre zone d'Italia o d'Europa, la montagna, come diceva lei, non è così antropizzata, non è così, come dire, occupata dall'uomo. La condizione, soprattutto in Trentino, è quella che ha determinato l'estinzione del lupo, nel senso che c'è una difficoltà di convivenza tra le attività economiche della montagna che qui è ancora presidiata ed è considerata da tutti un valore e invece dove non è presidiata il lupo ha la possibilità di vivere. Ecco, questo è un problema serio. Sull'arco alpino ci sono situazioni che sono uniche, come vengono considerati i modelli, che sono quel Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, dove però, ripeto, l'antropizzazione, che significa anche non soltanto sfruttamento della montagna, ma soprattutto cura e conservazione della montagna, dell'alta montagna, e altre zone invece dove non lo è, dove il lupo può senza grossi problemi convivere, ma da noi invece il problema si è ed è serio. Naturalmente non ci sono confini sulle regioni, non ci sono stazionate, per cui noi dovremmo cercare di concordare con Roma e con Bruxelles in una politica adeguata al nostro territorio, che non è quella della Lombardia, non è quella del Veneto, non è quella della Baviera, insomma abbiamo altre esigenze. Voltiamo decisamente pagina, cambiamo decisamente argomento perché lei si sta occupando anche del cosiddetto dopo di noi, in che modo? Ma me ne sto occupando naturalmente perché dirigo i lavori della quarta commissione che si occupa di tutte le problematiche della salute e del welfare, avevo fatto anche lì un atto di indirizzo nei confronti del governo provinciale proprio per sollecitare una maggiore attenzione, devo dire che il Trentino ha da questo punto di vista un'eccellenza per quanto riguarda anche quelle forme di associazionismo, di cooperazione, di volontariato sociale o di volontariato e non solo ma anche di cooperazione sociale che si occupano di questi problemi e siamo all'avanguardia a livello italiano, sollecitavo l'approvazione di una legge che adesso è in commissione, sollecitavo anche l'intervento del governo della giunta provinciale per fare in modo che questi disegni di legge e di iniziativa del Consiglio possano avere il contributo anche della giunta provinciale e mi pare che però siamo a buon punto, abbiamo aperto i lavori della commissione su questo tema e entro la fine della legislatura avremo una normativa di riordino del sistema che ripeto è già molto avanzato rispetto a tutto il resto d'Italia ma avrebbe bisogno di un coordinamento complessivo. Ed ora la domanda di un nostro telespettatore. Io volevo chiedere come era possibile per un cittadino che va a votare trovare una delimitazione autentica del valore politico di un partito e degli schieramenti. Il cittadino è disorientato e non riesce a trovare la strada per un voto determinato e sicuro. Giuseppe De Tomasi, consigliere provinciale della UAL, lei come risponde? Dico che ha ragione il cittadino nel senso che è molto più difficile adesso rispetto a una volta quando le ideologie avevano in qualche modo orientato i partiti, adesso è molto difficile trovare negli schieramenti come dire delle linee che orientano decisamente quindi sapere se uno di destra o uno di sinistra quando di fatto è tutto abbastanza complesso. C'è chi dice votare persone che sono la garanzia, in realtà le persone non danno continuità a un progetto politico, i partiti devono riconquistare e da questo punto di vista la trovo una sollecitazione assolutamente interessante e utile, devono riconquistare quel ruolo di essere davvero le fucile delle idee e anche la capacità di esprimere degli orientamenti, la capacità di esprimere degli ideali. Da questo punto di vista la Seconda Repubblica non ha aiutato molto, la personalizzazione della politica ha delegittimato i partiti e naturalmente ha fatto venire meno questi corpi intermedi nella politica che diventano determinanti per la continuità e per l'elaborazione dei progetti politici, ideologici e anche ideali. Noi ringraziamo molto Giuseppe De Tomas, consigliere provinciale della UAL che è stato nostro ospite di questa puntata di A Tu per Tu, arrivederci a tutti.